Fogliandro, c'è famiglia grande, un ballo di gruppo. Sì, sta minchia grande. Un ballo di gruppo no, Pappo! Sì, sta minchia grande, un ballo di gruppo. Fogliandro, c'è famiglia grande, famiglia grande, famiglia grande, famiglia grande. Tutto il mondo è di famiglia grande. Fogliandro, c'è famiglia grande, famiglia grande. Fogliandro, c'è famiglia grande, famiglia grande. Adesso stiamo suonando in quattro, io mio fratello, io al basso, a lui chitarra acustica e voce, Andrea Menabò di Jets Norris, chitarra bolognese, Mazza, un fisso armonicista di Parma. Abbiamo cambiato tante volte il tipo di suono, adesso siamo un po' più definiti su questo stile di questo album, di queste canzoni. Praticamente lo stile più o meno di Manu Chao, comunque la mescolanza di vari generi, di studi americani, reggae, musica popolare, etnica africana, musica che è stata definita Pachanka da Manu Chao e da musica di Barcellona, così più o meno è quello che siamo arrivati a fare spontaneamente. Pachanka! Cioè questa musica la facciamo proprio riguardo al mondo, per questo poi cambiamo in parianico, c'è l'italiano, la spagnola, l'inglese, il francese. Pachanka! Le dico alla comunica in Paglia, appena la mobila di Yacuna, ci hanno pulito la famiglia, e viene a utilizzarmi là a Saint-Gilles, in Bruxelles, l'ambito spagnolo, il nostro micro in Laitan, il Ghetto Priest, in Abitundal. E poi, bella lì a tutti i ragazzi di Bolo, di San Donato, della Bolognina, dei Giardini di Margherita, di Gazzarati e del Zamboncio. Pachanka! 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 Bene, quindi noi siamo in Gazzarati di Mamatica e andiamo ad ascoltarci la piantina Pichio di me! C'è una piccola piantina sul mio davanzale, speriamo che sia femmina, speriamo che sia femmina, la piantina.